La vittoria di Donald Trump ha suscitato reazioni miste in Italia. Molti italiani vedono questo evento con un misto di sorpresa e preoccupazione. Ma ci sono anche coloro che guardano con speranza e curiosità a questa nuova fase per gli Stati Uniti. Vediamo i pro e i contro principali. Pro Secondo alcuni, Trump rappresenta un cambiamento radicale. Ha sfidato l'establishment e si è mostrato come un candidato alternativo. Molti ammirano la sua schiettezza e l'approccio diretto, vedendo in lui un esempio di leadership forte che può portare decisioni rapide e incisive. Alcuni credono che possa favorire un miglioramento delle relazioni bilaterali con un occhio di riguardo per gli scambi economici e commerciali. Contro Tuttavia, molte voci critiche sottolineano i rischi del suo stile politico. Trump è visto da alcuni italiani come divisivo e polarizzante. Le sue politiche sull'immigrazione e il suo approccio alla diplomazia hanno generato preoccupazione, temendo una chiusura verso il mondo e possibili tensioni globali. Anche il tema ambientale è centrale. Le sue posizioni hanno destato scalpore tra coloro che temono per il futuro del clima. Insomma, mentre alcuni vedono nella vittoria di Trump una possibilità di rinnovamento, altri temono che questo cambiamento possa portare più problemi che soluzioni. E voi, da che parte state?